Ciao a tutti e bentornati su Audiofilando, il canale dedicato a tutti gli amanti del vero ascolto. Oggi vedremo insieme quale sia il trattamento che abbiamo deciso di realizzare in questa sala, nella nostra sala d'ascolto, per agire sul tempo di riverbero, diminuirlo e quindi di conseguenza migliorare l'esperienza d'ascolto musicale in questa sala. Nei video precedenti abbiamo parlato del tempo di riverberazione, il riverbero e il famoso parametro RT60. Abbiamo visto quale sia il riverbero ottimale in funzione delle dimensioni, delle caratteristiche di una sala d'ascolto e abbiamo misurato quale sia attualmente il tempo di riverbero in questa sala. Per ridurlo e dal momento che per forza di cose su pavimento e su pareti laterali non c'è tanto spazio per intervenire, ho deciso di agire sull'unica tavolozza ancora in tonza in questa sala, se vogliamo così dire, che è il soffitto. Applicheremo quindi un trattamento acustico fonoassorbente a soffitto, atto a ridurre il tempo di riverberazione di questa stanza e per farlo mi sono rivolto a un'azienda il cui nome lascia poco spazio alle interpretazioni, vale a dire l'acustico. Due parole su questa azienda, l'acustico, che è qui vicino in provincia di Torino. Acustico è sia produttore che distributtore in esclusiva di una vasta gamma di prodotti atti a trattare acusticamente gli ambienti dal punto di vista del fonoassorbimento e della insonorizzazione. Ma non si limitano a produrre e vendere questo materiale perché tramite il loro ufficio tecnico interno sono in grado di fornire un servizio di consulenza e progettazione di trattamenti acustici anche per esigenze particolari tra le quali la mia. Acustico ha un canale di comunicazione diretto con i clienti che possono liberamente consultare il loro ufficio tecnico per valutare un possibile intervento di correzione acustica ambientale. Io e Elena l'abbiamo fatto e insieme a loro abbiamo optato per la linea di pannelli deco style. Questa linea di pannelli, questi pannelli sono per così dire essenziali e sono presentati in forme e colori diversi in modo da essere quasi visti come un oggetto d'arredo piuttosto che un correttore acustico. Proprio per questa loro caratteristica sono quindi adatti, adattissimi per installazioni in ambiente domestico. I pannelli deco style sono realizzati in fibra di poliestere PET in pratica, PET. I pannelli deco style sono solitamente rivestiti con un materiale colorato che è pura lana vergine con effetto feltro, ma questi pannelli, quelli che installeremo noi in particolare, sono un'innovazione perché anziché questa lana per rivestimento utilizzano un materiale innovativo, nuovo, chiamato Aerofelt. Aerofelt non è nient'altro che la denominazione commerciale di un rivestimento realizzato in 100% di fibra di poliestere, ottenuto mediante un processo di legatura termica e meccanica dei filamenti. Questo materiale era utilizzato fino ad oggi in ambiti completamente diversi rispetto a quello acustico. Questo Aerofelt si presenta alla vista e al tatto come feltro, come comunissimo feltro, ma a differenza del comune feltro che trovate in commercio, presenta una struttura interna meno compatta e pressata, quindi è molto più leggero e soprattutto quello che interessa noi di più dal punto di vista acustico, che è più permeabile all'aria. Quindi, a differenza dei comuni rivestimenti utilizzati sui pannelli fonoassorbenti, questo Aerofelt, proprio per la sua struttura e la sua porosità, oltre ai requisiti estetici e di fonotrasparenza che questi rivestimenti devono avere, aggiungono loro stessi una proprietà fonoassorbente che si va a sommare a quella del pannello interno che rivestono. Ovviamente, oltre a queste caratteristiche, si tratta di un rivestimento anche ignifugo e idrofugo, che non guasti in ambito domestico, ma è essenziale in ambito commerciale. Veniamo ora ad alcune caratteristiche più strettamente tecniche acustiche di questo pannello. Il coefficiente di assorbimento acustico di questo pannello, come potete vedere da questo grafico, è eccezionale ed è pari a 1, praticamente il massimo possibile, alla frequenza di 1 kHz. Quello che vi voglio far notare, però, è che anche scendendo in frequenza, quindi entrando in quel dominio delle frequenze che risulta particolarmente difficile trattare in un ambiente chiuso, le proprietà fonoassorbenti rimangono molto elevate, con un coefficiente pari a 0,7 a 250 Hz. Anche scendendo ancora più in basso, scendendo sui 100 Hz, mantiene ancora un buon coefficiente di assorbimento pari a 0,3. Questo potere fonoassorbente si estende anche verso le alte frequenze, infatti vediamo che fino agli 8 kHz abbiamo ancora 0,85 di fattore di assorbimento, che è molto elevato. Per il trattamento acustico di questa stanza abbiamo scelto due tipologie di pannelli, una di forma esagonale e una di forma a onda, possiamo definirla. Ma, per parlare di queste cose ed entrare nel merito del progetto, lascio ovviamente la parola all'architetto. Elena! Elena! Ah, sì, 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 ci sono, ci sono, sì, stavo, mi stavo pregustando il bel lavoretto che verrà fuori. Quando siamo andati negli uffici di acustico, loro avevano diverso materiale esposto, io sono rimasta veramente piacevolmente colpita perché mi sono resa conto che non sembravano affatto pannelli fonoassorbenti, sembravano proprio dei complementi d'arredo e questo lo si vede anche e soprattutto dalle foto delle loro realizzazioni perché diventano praticamente parte dell'ambiente, lo ravvivano con i colori, con le forme, ma poi si sposano veramente con qualunque tipologia di arredamento e qualunque tipologia di funzione, anche quella domestica. Qui, per esempio, abbiamo due forme che sono quelle che abbiamo scelto per la nostra sala, questo l'esagono è veramente fantastico, quando è arrivata a casa me ne sono innamorata subito, questa è la versione total black, mentre invece questa è quella con il tessuto su una faccia sola, l'altra no. Questa opzione è stata scelta proprio per la tipologia di posa che abbiamo scelto per gli esagoni, mentre vedete questa bellissima forma che sembra quasi una custodia di chitarra, questi invece ad esempio sono sia fronte che retro rivestiti di questo bellissimo tessuto, molto bello anche al tatto, con dei colori fantastici. noi abbiamo scelto questo rosso perché come potete vedere rispetto alle nostre tende assomiglia tantissimo e poi volevamo dare così una sferzata di colore alla sala audio. Acustico come vi dicevo da grande importanza all'impatto visivo dei pannelli perché hanno intuito la potenzialità, il riverbero è un problema che sussiste in tantissimi ambienti, anche in quelli di casa, soprattutto quando abbiamo ambienti grandi con mobili che presentano tantissime superfici riflettenti per chi ama i mobili in vetro per esempio e quindi sono una valida possibilità per migliorare anche il comfort in casa attraverso l'utilizzo di questi pannelli che diventano delle decorazioni a muro piuttosto che dei quadri sospesi. Vi invito ad andare a vedere, a consultare il loro sito che ovviamente lascio qui nella descrizione del video come link, andate a vedere anche voi signore perché rimarrete stupite dalla bellezza di questi pannelli e dalla potenzialità che hanno non solo tecnicamente dal punto di vista acustico ma dal punto di vista estetico potrebbero veramente trasformare la parete di una vostra casa risolvendo anche tanti problemi di riverbero. Ma adesso veniamo a quello che è stato il progetto per questa stanza. Allora Acustico ci ha detto più o meno quale sarebbe stata l'area in metri quadri che ci sarebbe servita a livello di pannelli per asciugare un po' il riverbero che c'era all'interno della stanza. Noi quindi abbiamo optato per scegliere due forme differenti in modo tale da movimentare un po' la tesata di questi pannelli quindi anche il colpo d'occhio e per avere un effetto estetico ancora più piacevole. Una delle cose più belle dei pannelli fonastorbenti di acustico è che si possono montare e posare in differenti modi. Le metodologie di posa sospesi a soffitto sono fondamentalmente due ovviamente una in verticale cioè in questo senso perpendicolare rispetto al soffitto ed è quella che viene chiamata baffle diciamo così. Il pannello in questo caso funziona dal punto di vista acustico e di assorbimento del riverbero da entrambe le facce ovviamente quindi è quella che consente la maggiore espressione delle potenzialità del pannello stesso. Poi invece abbiamo un'altra tipologia di posa che viene ovviamente consigliata di più con questo tipo di forme che possono essere esagonali, triangoli, tondi o quadrati che invece è sempre sospesa quindi distanziata dal soffitto ma parallela ad esso quindi il pannello lavora comunque sempre da entrambe le facce la faccia superiore lavora molto di più sulla riflessione diretta sul soffitto queste sono le due tipologie di posa sospensione tutti i pannelli deco style come vedete compresi possono essere anche posati in aderenza in aderenza sia alla parete cioè bellissimo immaginatevi che quadro viene fuori oppure in aderenza al soffitto questo l'aderenza al soffitto magari viene consigliata particolarmente in ambienti mansardati per esempio in cui ovviamente è molto difficile metterli in sospensione e non si può rubare dello spazio in altezza noi abbiamo scelto di posizionare entrambe le tipologie di deco style in sospensione sul soffitto anche perché in questa stanza come sapete tutto è studiato, pensato e voluto per ascoltare al meglio il nostro impianto stereo a parte quella vetrina lì che fa capolino dietro di me che esiste perché per forza di cose dovevamo contenere la nostra collezione di chitarrine però ripeto tutto il resto è pensato per il nostro impianto stereo quindi anche se non abbiamo delle altezze stratosferiche sul soffitto ce ne siamo un po' fregati e abbiamo pensato di dare proprio ancora di più l'impressione di volerli mettere in risalto perché tutto sommato se lo meritano quindi abbiamo agito su due blocchi il blocco degli esagoni che verrà posizionato parallelo al soffitto in sospensione in questa maniera in questa zona qui dove io sono adesso ed abbiamo pensato di inserirli in modo tale che creassero un alveare data la loro forma per quanto riguarda invece questi pannelloni qui questi verranno sospesi invece in modalità buffle proprio così perpendicolari al soffitto e verranno messi nella parte che sta tra il punto d'ascolto e lo stereo la suddivisione in questi due campi è stata data dal fatto che come sapete se avete già visto la nostra puntata sul nostro impianto un theater non ve la perdete andatevela a guardare abbiamo in attesa la sopra sul soffitto due canaline che attendono le due ulteriori casse per realizzare il dolby atmos quindi queste due casse che saranno poi messe a soffitto faranno da divisorio tra la parte dei baffoli e la parte degli esagoni i pannelli come vedete sono molto molto leggeri se io riesco a maneggiarli così vi assicuro che sono molto leggeri per la maglia che abbiamo ideato per la foratura per la sospensione di entrambi i modelli vi rimandiamo alla puntata in cui vi faremo vedere come effettivamente li metteremo in opera quindi siete curiosi di sapere quale sarà l'effetto estetico e soprattutto acustico anche noi quindi non vediamo l'ora di metterci mano dovrete avere un po di pazienza perché ci sono dei passaggi intermedi da fare e un po di fuori a soffitto però vi assicuro che appena fatto vi renderemo partecipi di questo grande progetto ok a questo punto in attesa di mostrarvi sia l'installazione che l'effetto finale il risultato finale di questo trattamento acustico non mi resta che augurarvi buoni ascolti e ciao